Musica Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. E' finita con sette carabinieri, due agenti e un funzionario di polizia contusi. La protesta nata nel Cara di Palese da parte di alcuni ospiti del centro pare per il mancato riconoscimento dello stato di rifugiati politici. Una trentina gli immigrati di diverse nazionalità, tra i quali alcune donne, avrebbero preso a sassate i rappresentanti delle forze dell'ordine. Tre di loro sono stati condotti dal 118 all'ospedale San Paolo, gli altri invece medicati sul posto. Due immigrati si trovano ora in questura per accertamenti. Sono stati acquisiti, filmati delle telecamere a circuito cru, chiuso del centro di accoglienza richiedenti asilo, per identificare gli altri colpevoli. E nulla di fatto nella riunione del Consiglio Generale della Fiera delle Vanti, riunitasi questa mattina per chiudere il bilancio 2012 e programmare il futuro dell'ente alla luce del buco in bilancio che tocca i 18 milioni di euro. Si tornerà a discutere delle strategie per salvare la fiera il 15 gennaio del 2014. Al vaglio dei componenti del Consiglio, una serie di alternative che vanno dall'ingresso nella gestione di soci privati alla liquidazione del patrimonio immobiliare dell'ente. E parliamo ora invece dello sciopero del trasporto pubblico locale di questa mattina. Massima l'adesione tra gli autisti dell'Antab. Ce ne parla Silvia Di Pinto. In giro per la città questa mattina solo 4 autobus dei 50 in partenza da Piazza Aldomoro. L'adesione tra i dipendenti Amtab è compatta. Sciopera il 90% degli autisti. Tornano a incrociare le braccia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Fermo a dicembre del 2007. L'unico contentino che abbiamo avuto in questi anni, spiegano, è un regalino di 300 euro. Ma gli stipendi sono fermi da 6 anni. Siamo indietro di 5 anni, quindi non mi sembra giusto anche lavorare e rimanere con i salari di 5 anni fa. Con tutte le conseguenze e aumenti che ci sono stati, quindi secondo me è giusto scioperare. E con i disagi per lo sciopero tra i passeggeri esplode il malcontento anche per i quotidiani di servizi dell'azienda. Io sto dalle 10 e mezza ed è una porcheria di ridicolità. Il sindaco che abbiamo, lasciate le macchine perché ci sono i mezzi. Ogni quarto d'ora è bugia. Sì, capisco lo sciopero, però insomma i disagi sono parecchi per noi che ci spostiamo con i mezzi. Ma è possibile che ogni giorno noi dobbiamo fare questa canzone? Ogni giorno. E torniamo a parlare della protesta dei Forconi. Il movimento 9 dicembre Bari non aderirà alla manifestazione nazionale prevista a Roma per mercoledì prossimo. La protesta a Bari, si legge nella nota diffusa, resterà quindi nei binari del rispetto dell'istituzione delle regole. Così come è accaduto nella settimana scorsa quando ci sono stati presidi, rallentamenti del traffico sulla tangenziale e cortei nel centro cittadino. Questo non significa che termineranno le manifestazioni, aggiungono, anzi si moltiplicheranno. Oltre a perfezionare le funzioni dell'Assemblea Sovrana dei Cittadini, manifestanti sfileranno in corteo domani 17 dicembre con concentramento in piazza Umberto Leore 9 e termine in piazza della Libertà. E parliamo ora della prima rata della Tares. Lunghe file oggi negli uffici postali e nel Palazzo dell'Economia, ma dal Comune rassicurano. Non c'è fretta, non ci sarà alcuna mora. Vediamo. Sulla mia comunicazione c'era scritto che gli uffici erano aperti dalle 9 alle 12, quindi io sono arrivata qui alle 9 e opero al 191. Adesso siccome c'è talmente tanta gente che anche il computer che dà i numeri si è bloccato. Allora man mano che entra una persona esce il numero dal computer. Un vero e proprio assalto al Palazzo dell'Economia per chiedere chiarimenti su rincari, esenzioni e riduzioni. Lunghe file negli uffici postali e agli sportelli bancari. La Tares crea scompiglio tra i contribuenti, nonostante i ripetuti tentativi di Palazzo di Città, di fare chiarezza su un'imposta che arriva come sgradito regalo di Natale. Il terrore dei cittadini è che se non si paga la prima rata entro oggi potrebbe scattare la mora. Falso, ripetono dal Comune. C'è tempo fino al 31 dicembre. E comunque i controlli partiranno solo a maggio, quando sarà scaduto il termine ultimo per il pagamento delle quattro rate Tares. Fino a marzo 2014, poi, è ancora possibile fare domanda per esenzioni e riduzioni attraverso i CAF convenzionati. 135 mila gli avvisi di pagamento già inviati. Avvisi bonari, assicurano dal Comune, che prima dello scadere dell'ultima rata di aprile non farà pagare alcuna mora. A poco però servono le rassicurazioni dei funzionari e del Vice Sindaco Alfonso Pisicchio. Non tutti i cittadini si fidano. Il minimo che avrebbe potuto fare il Comune di Bari è chiedere scusa ai cittadini per un loro errore, per un loro ritardo. Dopodiché ci voleva una comunicazione ufficiale, pubblicizzata, non soltanto all'ufficio tributo. E continua la protesta dei precari dell'Università. Un albero di Natale e di impegno. Questa mattina i 60 lavoratori con il contratto in scadenza, il 31 dicembre, hanno addobbato con i pensieri e le speranze della comunità universitaria un albero di Natale che rappresenti la loro sfida, scrivono. Un monumento per descrivere che davvero si può dare di più. A cominciare dal rispetto del contratto integrativo e dall'utilizzo dei punti organico 2014 per l'assunzione degli stabilizzanti. E Lega Ambiente Puglia torna a chiedere l'entrata in vigore dell'Ecotassa. Lo fa due giorni dalla discussione della manovra finanziaria in Consiglio regionale e alla vigilia del vertice di maggioranza convocato dal Presidente della Giunta regionale pugliese, Nichi Vendola. Il Presidente di Lega Ambiente Puglia, Francesco Tarantini, supportato dal Presidente nazionale dell'Associazione Ambientalista, a margine di un incontro si è appellato ai consiglieri regionali chiedendo loro di evitare il terzo slittamento dell'Ecotassa. Poi anche un appello ai cittadini nel giorno della consegna del premio Ambientalista 2013. L'invito a protestare con le amministrazioni comunali che non abbiano la raccolta differenziata porta a porta. E voltiamo pagina. Cofi di Puglia punta sulle imprese per analizzare il difficile momento economico, ma anche per riflettere sul sistema una serie di incontri fino a marzo 2014. Vediamo. 54 milioni di euro di garanzie erogate, 356 pratiche deliberate, 10.000 soci. Il sistema dei Cofi di Puglia sta bene, lo dicono i dati dei primi 11 mesi del 2013, lo conferma il Comitato di gestione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Per fare il punto, Cofi di Puglia, nata dall'unione di 5 confidi del sistema CNA pugliese, ha voluto organizzare una serie di iniziative tra dicembre e marzo 2014. La prima oggi nel padiglione Union Camere, dal tema la posizione dell'associazione sul credito, le politiche e gli strumenti di garanzia e il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia. Il tasso di decadimento, che sono gli ingressi in sofferenza, i flussi di nuovi ingressi in sofferenza, vede questa regione comunque in una condizione più virtuosa rispetto alle altre della stessa area, quindi rispetto alla Campania piuttosto che alla Sicilia. Quindi complessivamente la nostra economia che sta arretrando, ahimè, come tutta l'Italia nella crisi, ma meno le altre. Un modo anche per confrontarsi su quale sia lo stato di salute dei confidi e quali gli strumenti per migliorarsi. Sicuramente la tipologia di imprese è cambiata. Oggi purtroppo c'è una selezione naturale, ci sono imprese per cui ormai non c'è assolutamente più niente da fare, altre invece che abbiamo la soddisfazione di aver aiutato. Soprattutto abbiamo aiutato a fare gli investimenti, il che non è poco in questo momento. Infatti sui 60 milioni di euro garantiti il 60% solo per investimento.